Anticipazioni Il Segreto, puntate da lunedì 18 a venerdì 22 luglio. Amalia strangola Beltran. Lunedì 18 luglio, Aurora dopo aver parlato con Bosco, lo convince a trasferirsi insieme a Beltran a Rajal. La famiglia viene accolta calorosamente da Candela e Rosario. Martedì 19 luglio, Ines sapendo che Beltran ha bisogno del suo latte, si reca a Rajal. La perfida donna Franziska ordina qualcuno di uccidere Sabina. Mercoledì 20 luglio, Sabina è sparita misteriosamente e Carmelo è molto preoccupato. Bosco, armato dalle più nobili intenzioni, si offre di curare gli affari della tenuta di Rajal. Giovedì 21 luglio, Carmelo non si dà pace e non ammette che le indagini effettuate per scoprire che ha ucciso Sabina abbiano escluso la perfida a Montenegro. L'uomo così affoga il suo dolore nell'alcol ed anche lui sparisce nel nulla. Venerdì 22 luglio, Emilia non accetta l'idea che il padre sia andato ad abitare nella villa e così non vuole più saperne nulla di lui. Iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti e le prossime anticipazioni del Segreto e tutte le altre SOP.